Ciao, carino. Ehm... ciao. Joe non è qui adesso. Dice di incontrarlo da freddi a pranzo. Capisco. Dormivi quando sono entrata. Peccato. Magari un'altra volta. Ciao. Che spettacolo. Vaffanculo! Brutta puttana! Ma io... Torna qui, cazzo! Se non sai guidare, statene a casa, al tuo posto! Ehi, non è la ragazza di Jokel? Beh, una di loro, comunque. Tu sei venuto addosso alla mia macchina e io vengo addosso alla tua! Guarda la mia macchina, cazzo! Ehi, amico, piantala. E tu chi cazzo sei? Uno a cui non piace che parli in quel modo a una donna. Quindi chiudi quella fogna di merda e vattene finché sono di buon umore. Mi hai capito bene? Cos'è la tua ragazza, per caso? Beh, se non mi paga lei, allora mi paghi tu! Un'altra parola, e ti spacco tutti i denti. E ora levati dai coglioni, strozzo! Ecco la parola in più. O trimozン e guadal 25. Grazie, carina, ti devo un favore? Qualche volta fai un salto da me per una fetta di torta… Sì, grazie, ma adesso mi devo proprio andare. Ti piacerà, vedrai. Ora però devo scappare. Ci vediamo. Ehi, ragazzi. Ehi, Vito, questo è Luca Gurino. No, vuole parlarvi. Luca, questo è Vito. Molto rieto, signor Gurino. Non c'è bisogno di essere formali. Chiamami Luca. Siedete, Vito. Cosa le porto? Quello che ho preso io. E muoviti. Ho sentito del vostro incontro con gli irlandesi. Bella storia, cazzo. E voglio congratularmi con voi due per il lavoro fatto. Salute. Salute. Avete fatto un lavoro coi fiocchi. Sono in pochi che hanno le palle per fare questa roba. E adesso? Mi chiedo se siete pronti al passo successivo. Sì, sicuro. Sarebbe? Sto parlando di eliminare qualcuno. Solo perché qualcun altro gli punta contro un dito e ti dice rifarlo. Sono stati in guerra, signor Gurino. Uccidevo chi mi dicevano di uccidere. Persone che il presidente puntava col dito. Questa è buona. Il presidente. Sì, mi piace. Ma stai parlando dei crocchi, giusto? Sai, e cattivi. Non è quello che intendo io. Capisci? Sì, capisco. Bene. Ci serve gente come voi. In grado di eseguire gli ordini senza fare domande. Gestite questo lavoro come l'ultimo e magari sarete accettati nella famiglia. Ma prima dovete pagare la quota di ingresso. E quanto sarebbe? Cinque mila a testa. È una fottuta fortuna. Ehi, nessuno ha detto che costava poco. No fedatevi. I benefici compensano largamente i costi. Lascerò decidere a voi. Henry vi aggiornerà sul resto. Ci vediamo più tardi. Eccoti qua. È stato un piacere. Hai già fatto quello che ti ho detto? Sì, sì, è tutto sotto controllo. È quello che hai detto l'ultima volta. Cerca di non deludermi di nuovo. Cavolo, io giuro... Sì, ora vieni con me. Dobbiamo parlare di un altro affare. Allora, Henry, di che lavoro parliamo? Devo far fuori uno. Il contratto è mio, ma mi serve aiuto. Qui entrate in gioco voi. Chi è il fortunato? Un ciccione che sta oltre il fiume. L'abbiamo avvertito, ma si crede è intoccabile. E lo è? Beh, qualcuno ha già provato a farlo fuori. E? Diciamo solo che l'hanno leggermente sottovalutato. Leggermente quanto? Troppo. È un modo carino per dire che sono morti, giusto? Ehi, noi non siamo quei cazzoni. Ho affittato un appartamento di fronte a dove lavora. Lo aspettiamo e appena quello stronzo si fa vivo, boom! Tanti saluti. Come facciamo? Con una MG42. Oh. E dove la prendiamo, una MG42? Henry? Sì? È un veterano come te. È un piccolo negozio d'armi provato a Kingston. Può farti avere qualsiasi cosa. La c'è un portano al banzucca. E non serve nessun cazzo di porto d'armi. Ok. Io e Joe andiamo all'appartamento. Tu prendi la mitragliatrice da Henry a Kingston. È tutto pagato. Degli solo che ti mando io. Poi raggiungici all'appartamento. A Sand Island. L'edificio di fronte alla distilleria. È il 233. L'appartamento 233. Ci vediamo là fra un po', ragazzi. Va bene, dopo. Buona fortuna. Sì, che c'è? Henry Tomasino mi ha mandato a ritirare il suo ordine. Entra! E là? Allora, sei tu quello di cui mi parlava Henry? Già. Hai la sua roba? Bene. Eccola qui. MG42. Fatta in Germania. La falce di Hitler, la chiamavamo. Una bellezza. Ben 12 chili. Calibro 7,92. 1200 colpi al minuto. La più veloce al mondo. Un nastro da 250 colpi, portata di 1200 metri ed estremamente affidabile. Non so cosa dovete sparare. Ma a meno che sia in un cazzo di carro armato... Beh, allora sayonara, baby. Devo mostrarti come si usa. No, grazie, le conosco. Anch'io sono stato in guerra. Ma va. Aspetta, mi prendi in giro. Aspetta, aspetta. E dov'eri? Normandia? No, Africa? Un attimo, fammi indovinare. Operazione Aski. Ma dai! In che unità eri? 504esimo parà. Davvero eri un paracadutista? Ve la siete vista brutta, ho sentito. No, non è stata una scampagnata. Sono stato colpito e mi hanno mandato a casa. Qualche medaglia? Purple Heart e CVM. Ehi, wow, una croce. Sai, non le danno via per niente quelle. Io ero in Normandia, siamo sbarcati a Utah Beach. Anche lì non è stata una scampagnata, ma... E mentre scavalcavo un recinto al ritorno, mi sono cavato l'occhio col ramo di un albero. Eh beh, è stato sufficiente per congedarmi. Ah, senti, devo proprio andare. Va bene. Ehi, a proposito, sono Harry. E io Vito. È stato un piacere, Vito, un vero piacere. Se ti serve qualcosa, sai dove trovarmi. Oh, ehi. Ecco qui. Spero che tu sia in macchina. È grossa. Buona fortuna. Grazie, Harry. L'arma è nella cassa e nel furgone fuori in cortile ci sono mucchi di munizioni. Prendi pure, è già tutto pagato. Ti si vede presto, Vito. Oh, oh, oh. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Ti ha preso un biglietto, eh? Ma che simpatico, Joe! Mio padre era un uomo d'onore. Le cose sono andate male quando è salito Mussolini. Il mio vecchio ha pensato che mi avrebbero arruolato o arrestato. Così mi ha mandato qui e mi ha trovato un lavoro con Clemente. E tuo padre invece? Ha detto che era troppo vecchio per il viaggio. Mussolini l'ha fatto arrestare e è morto in prigione. Non ci hanno nemmeno restituito il suo corpo per il funerale. Oh, brutta storia. Ma com'è che parli così bene? Arrivano. Quelle auto nere. Vito, mira il bastardo grasso. Dobbiamo farlo fuori prima che entri. Preparati. Bene, ci sono. Dele armi lassù a quella finestra! E' lui, Vito. Un cedino è giù al sordo. Andiamo peccati! Smettela di sparare, ragazzo! Sta diventando sordo! Vito, copro! Bene, ci vai in scena! Hai parato nelle sette! Muove, vito e copro! Tutto qui, quello che sai fare! Minchia, se ne vuoi! Muoviti, Vito! Non possiamo far scappare quel ciccione di merda! Ok, prima tu, Vito. Sei tu l'eroe di guerra. Vai, ti copriamo noi! Veniamo a prenderti, porcellino! Vito, coprimi! Bene, Vito, andiamo! Muoviti, io ti copro! Sei morto! Esci dal tuo buco dopo le foglie! Oh, cazzo, attenti! Cosa cazzo è? Ma è in scena! Ehi, aiuto! Aiuto! Aiuto, a te, ti aiuto! La montagna! Ora l'intero cazzo di posto finirà in cenere! Minchia, prego di acqua! Muoviti, io ti copro! Vito, coprimi! Sei morto! Dai, andiamo! Tutto qui, quello che sai fare! Minchia, se ne è in guai! Muoviti, Vito! Dobbiamo andare! Vito, coprimi! Sei morto! Non ti morire, mangio spaghetti! Oh, no! No! Bene, Vito! Si va in cielo! Oddio! Oddio, no! Non sai fare di meglio! Vigati a morire, strozzetto! Muoviti, io ti copro! Muoviti, io ti copro! Ok, premi il pulsante, Vito! Che minchia fai, Joe? Cosa? Oh, sì! È roba buona! Dovreste provarla! Vai pure, ma io non bevo sul lavoro! Eccoli che arrivano! Vieno, po! Non lo vede! Vai in cera! No! No! Il salone è ferro! Dove vi ha preso? Vito, giù! Fate qualcosa! Non possiamo gazzeggiare! Coraggio, il palco è da sopra! Non uccidetemi! Mi prego, sono sposato! Dovevi pensarci prima! Non uccidetemi! Per l'amor di Dio! Don Clemente ti manda i suoi saluti! Cazzo! Ma che cazzo ti dispiace! Eric, stai bene? Dove ti ha preso? No, non sto bene per un cazzo! Mi ha preso la gamba, cazzo! Oddio! Veggia! Figliati! Sta prendendo sangue dappertutto! Portatemi dai greco! Il fottuto pettore! Il fottuto dottore! Idiota! Ok, calmati, saremo lì in un minuto! Quello greco! Vive a Aibro! Siamolo alla macchina! La donna santa! Pesi più di quanto sempre! Quali ceccione di merda! Mi ha quasi fatto saltare le palle! Rilassa, te ne è mancate di un minuto! Ehi, attento! Fa male, cazzo! Vabbè, vuoi iniziare a camminare se non smetti di frignare! Ehi, ok, non c'è bisogno di incazzarsi! Tono io quello che muore dissanguato qui! No! Non voglio morire! Oh, ragazzi, ecco siamo! Cazzo! La cazza. Cazza, qui sta crollando tutto quanto! Ehi, è venuto qua! Cazzo, cazzo, che sta crollando tutto quanto! Un'opera che vieni qua! Muoviamoci, il fuoco si sta diffondendo! Fuoco del cazzo. Indizio. Non posso andare a mia ammettere, papà. Oh, cazzo! Se non ce la faccio... Ehi, ehi, non dire così, Emi, che è solo un grafico. Il dottore ti mette qualche punto e poi andiamo tutti a festeggiare. No, sul serio. Shhh. Ora non deve parlare. Spammi le forze. L'ho visto fare in un film una volta. Davvero? E cos'è successo a quello del film? È molto. Gesù, guidi come mia nonna! Vedo! Forza! Quest'affare non può andare più in fretta. Dobbiamo seminare gli sberri. Vado più veloce che posso, Chris. Eh, non è abbastanza veloce. Calma, è ok? Buco nella gamba grosso come una palla da golf. E vuoi che mi rilassi? Portami dai greco, cazzo. Allora, chi è questo tizio? Quale? Quello da cui portiamo Henry. È il greco. Un dottore. Ti molle un po' di verdone e lui ti mette a posto senza fare domande. Diciamo che è la soluzione quando non puoi andare in ospedale. Perché non dovrei andare in ospedale? Perché se ti presenti lì con un poco di proiettile, per prima cosa chiamano gli sberri. Già. Quindi il greco ha un sacco di clienti del nostro giro. Ma tu non ne avrai bisogno, Vito. Ti rimetti sempre molto in fretta. Sarà quello che mangi. Ehi, Henry, Henry! Rimani svegli? Sì. Tieni dura, amico. Saremo del greco in un minuto. Ti assento la pulsa di su, Flaji. Ehi, Vito! Muovete! Vire sta sudando come una bottana qui dietro. Andrei più veloce. Se tu stessi zitto! Vito, là. Nella casa. Ma che c'è lì davanti? Sei il greco, il dottore? No. Sono il greco, il pittore, cazzo. Il mio amico sta morendo dissanguato. Grazie, dottore. Oh, Dio. Dobbiamo un favore. Portatelo dentro! Ehi, ho i tuoi soldi. Per il lavoro, prendeli. Potevo anche aspettare. Ma grazie. Eh, grazie di tutto. Ti rimetterai. Già. Lo spero. Io rimango qui con il. Ci vediamo più tardi. Va bene. Vito! Come va? Vi ho portato i soldi per pagare i debiti di papà. Oh, Vito! Che bello! Volevo provare a vedere se potevamo pagare a rate. Un po' di soldi. Non ci avrebbe toccato a noi. Senti, ora... Ora non importa. Prendili. Dove hai preso tutti quei soldi? Vito, non hai fatto niente di male, vero? Fanny, non preoccuparti. Va tutto bene. Grazie, Vito. Grazie. È tutto ok. Senti, ora vado. È meglio che mamma non mi veda. Non voglio che mi faccia domande. Tranquillo. Qualcosa inventerò. Va bene. Dalle un bacio da parte mia, ok? Lo farò. Riguardati, Vito. Riguardati, Vito. Grazie. Grazie.